Perché l'esercito italiano è stato travolto a Caporetto? In parte perché si è trovato di fronte un esercito più forte. I tedeschi fanno la guerra con una passione e una professionalità che da noi mancano. I tedeschi studiano, sperimentano, applicano nuove tattiche. Noi stiamo fermi e ci atteniamo ai regolamenti. Il nostro esercito è lento, burocratico, contadino. Il loro è veloce, moderno, industriale. I tedeschi hanno capito che è inutile sacrificare ondate di uomini contro le mitragliatrici e il filo spinato. Specialmente in un terreno di montagna come quello dell'Isonzo bisogna attaccare con piccolissimi gruppi, molto ben armati e ben addestrati, che hanno ordine di andare avanti, non intestardirsi ad attaccare i punti di maggior resistenza, infiltrarsi, comparire all'improvviso nelle retrovie. Di fronte a questa nuova tattica il nostro esercito si sbriciola. Ai nostri soldati hanno insegnato soltanto a difendere il loro pezzetto di trincea contro un nemico che attacca frontalmente. In una situazione inaspettata si perdono. Ma bisogna anche dire che in quell'autunno del 17 il nostro esercito era comunque vicino al punto di rottura. C'è un limite alla quantità di sofferenze, di delusioni, di perdite che un esercito può subire senza rompersi e noi c'eravamo quasi arrivati. I soldati erano demoralizzati, combattevano ancora perché non erano dei vigliacchi, ma non avevano più voglia di farsi ammazzare per niente e piuttosto quando le cose si mettevano male erano pronti ad arrendersi. Anche la qualità degli ufficiali non era più quella di una volta. Ormai i reparti in trincea erano comandati da ragazzini di 19 anni, studenti di scuola superiore. Come disse un sergente siciliano a un generale che lo interrogava, signor generale siamo in mano alle creature. E così il nostro esercito, governato dalla burocrazia, dove l'iniziativa era scoraggiata e dove, come disse il generale Capello, fra gli ufficiali di artiglieria c'erano più avvocati che ingegneri, venne attaccato dal miglior esercito del mondo, dove i giovani ufficiali insegnavano che la cosa più importante era l'iniziativa, non star fermi, non aspettare gli ordini, prendersi delle responsabilità. Fra quei giovani ufficiali che infiltrarono le linee italiane a Caporetto c'erano tre futuri Feldmarescialli di Hitler, fra cui uno che si chiamava Erwin Rommel. Evidentemente non c'era partita.